...su secondo palo, prova invece, Maggio! Un gol da favola, quello di Maggio! Mi va! Ancora una volta, Diluccia ha dato una palla a Mozart, lo li vediamo, sul destro, centralmente pressato, ha perso palla e poi c'è stato questo cambio di gioco perfetto, c'era anche Denisse per calciare al volo.